Lorenzo, Stefano e Maria Vittoria molto vicini si scambiano opinioni, ammiccamenti e sorrisi birichini. Ma cosa sta succedendo? Sui social si legge. Quindi è sempre stato questo il problema di Maria Vittoria con Shaila. Piaceva a lei Lorenzo, a momenti se lo limona e lui dice, va betanto Tommaso ha toccato il cul zero a Shaila, vediamo cosa diranno quando vedranno tutto, in vino Veritas, e tra loro insinua anche il bel tentatore Stefano. Intanto Federica Petagna ha quasi preso una decisione. La lontananza da Alfonso e Stefano ha offerto diversi punti di riflessione a Federica, ormai sempre più convinta di volersi lasciare il passato alle spalle per proseguire un percorso maggiormente incentrato su se stessa. Con Stefano, però, sta bene e ha provato anche il desiderio di abbracciarlo. Tra i due, è sicuramente il ragazzo che le è mancato di più, Lorenzo, invece, è deluso dai suoi coinquilini e confessa a Maria Vittoria di voler prendere le distanze da tutti per poter ritrovare la sua serenità.